Benvenuti amici di Socialintech, eccoci ad una video recensione questa volta di due prodotti di marca Anker qui è uno piccolino e questo invece sicuramente è un prodotto interessantissimo ed è uno dei nuovi modelli per quanto riguarda il MagSafe di iPhone ma andiamoli a vedere più nel dettaglio eccoci allora con le confezioni scartate e i due prodotti però questo qui si vede un po' meno dove abbiamo comunque le classiche manualistiche e si tratta in particolare questo prodotto è il 511 Charger si tratta di amici amici un caricatore davvero davvero piccolissimo vado a scartare anche se in maniera un po' brutale andiamo a vedere ecco qua e voilà amici guardate guardate che caricatorino vedete nella mia mano è davvero piccolino e non ho una mano grande è il famosissimo 511 Charger il mini caricatore di Anker con una ricarica super veloce vi porto anche i dati se si vedono qua eccoli qui abbiamo un alimentatore che porta ben 20 watt di potenza potete leggerlo non so se si vede bene eccolo lì 20 watt di potenza quindi può ricaricare tranquillamente quello che è l'iPhone ma anche ad arrivare tranquillamente alla ricarica dell'iPad che bastano 18 watt per cui guardate davvero che cosa magnifica questo caricatore piccolissimo davvero davvero piccolissimo un qualcosa di incredibile se pensiamo a quello della Apple originale e quanti watt da arriva a 5 watt insomma si tratta veramente di un qualcosa di magnifico da parte di Anker ma direi di togliere un po' l'attenzione nei riguardi di questo prodotto e andrei a questo prodotto qua perché questo qui è il nuovo prodotto della linea MagSafe vado cerco di non rompere nulla allora intanto abbiamo qua il prodotto all'interno vi è poi un'altra scatolina che andiamo ad aprire velocissimamente eccolo qua la manualistica ovviamente con tutto ciò che riguarda questo prodotto e poi abbiamo qua il caricatore l'alimentatore precisamente scusate e qui abbiamo un attacco doppio Type-C per il cavo qua abbiamo il, andiamola a vedere più nel dettaglio andiamo ad aprire sempre sacchetti su sacchetti eccolo qua comunque un caricatore anche in questo caso come potete vedere piccolissimo e vi allargo vi faccio vedere meglio eccolo qua eccolo qua porta fino a 75 watt di potenza guardate qua amici 75 watt di potenza questo cosino piccolino qua una roba incredibile ma mettiamo tutto via e tiriamo fuori il prodotto di riferimento che è veramente una figata incredibile amici allora abbiamo questa basetta dove qui si attacca il cavo che vi ho appena fatto vedere c'è anche la sua canalina per tenerlo fermo e qua abbiamo il supporto ottimo, davvero bello con questo stelo in alluminio resistente, materiali davvero premium abbiamo anche questa possibilità di poter flettere il supporto ma cosa abbiamo qua? un supporto, è vero, ma sembra una batteria eh ragazzi, questa è anche una batteria perché se noi sfiliamo questa parte qua ecco a voi la batteria è una batteria Anker come una batteria classica un power bank portatile da inserire poi all'interno di questa sua canalina diciamo, chiamiamola così in cui poi possiamo andare ad inserire il nostro iPhone e vi faccio vedere quello che è la cosa figa da questo punto di vista la cosa ganza allora amici prendo il mio iPhone lo attacco allora, voilà si attacca magneticamente come potete vedere è già partita anche la carica perché in questi power bank della Anker la carica parte automaticamente appena si attaccano molto molto carina questa cosa qua ma potete vedere che io posso tranquillamente sfilare il mio iPhone eccolo qua questo è un Pro Max per cui ci sta veramente bene questa batteria e me lo posso portare in giro e il supporto rimane fermo arrivo a casa posiziono il telefono voilà lo stacco e voilà tutto rimane e qui potete vedere anche questa cosa qua qui lateralmente ci sono i led della batteria che si vedono anche esternamente per cui davvero davvero figa questa cosa qua ragazzi è una cosa ganzissima cioè è fantastico per me è eccezionale cioè te ti puoi portare via il tuo power bank arrivi lo metti vai via arrivi a casa o lo stacchi lo rimetti lì oppure dici vabbè io arrivo qua e lo metto tranquillamente sul suo coso e guardate faccio anche un po' di movimento e non si stacca perché è veramente ben ben fatto ma guardate qua cioè amici è ganzissimo è qualcosa di ganzissimo lo prendo e lo rimetto qui che c'ha qui in fondo i tre pin qui c'è anche la possibilità di andarlo a ricaricare con ricaricare direttamente con la type C scusate qui c'è il tastino qualora vogliate ovviamente spegnerlo e anche in questo caso potete anche ricaricare un altro prodotto qui sopra potete metterci anche le cuffiette che si caricano in wireless insomma cioè guardate qua che figata ragazzi che figata è veramente veramente eccezionale questo prodotto è veramente veramente incredibile è il 633 precisamente lo snap charger flu di Anker davvero davvero incredibile insieme poi con questo piccolissimo alimentatore insomma la Anker ha veramente spaccato da questo punto di vista che dire ragazzi se vi è piaciuta la recensione mettete un mi piace oppure potete anche commentare sotto nei commenti ma vi ricordo cliccate sulla campanellina affinché possiate ricevere le notifiche dei nostri video del nostro canale quindi youtube con questo vi saluto ciao ciao